La regione Lombardia ha scelto di venire qui sul luogo dove questi 21 comuni hanno preso insieme a noi un'iniziativa straordinaria, innovativa, positiva per i cittadini e per le imprese e cioè di semplificare una serie di procedure che permetteranno ai cittadini e alle imprese di avere più tempo a disposizione dovendone sprecare meno in burocrazia. È importante che il Presidente Formigoni come massimo rappresentante di regione Lombardia sia venuto qui a testimoniare da una parte l'importanza della firma di questo protocollo e dall'altra parte anche qui nella sede di una importante industria manufatturiera che sta investendo molto all'estero ma soprattutto in Italia a testimoniare che la via per la crescita nasce proprio da una buona collaborazione tra pubblica amministrazione che va avanti, che migliora la propria efficienza e imprese che continuano a investire e ad andare avanti.